Speranza. Voleva consigli, roba del genere? Assolutamente no, non ne aveva bisogno. Era laureata in filosofia, un dottorato di ricerca, voleva soltanto conoscerci. È ripartita per Vipiteno dopo un mese. E allora perché ci voleva conoscere? Perché diceva che le avevamo dato speranza. Speranza in che senso? Le avevamo suggerito un altro modo di vedere la vita.